Si inizia! Ambo Koe! Allora, 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 allora. Ho una domanda. Ho un dubbio. No, non quello, non quello. Koe? Sì? Ma perché c'è tipo una maschera in faccia? Ma sono i capelli qui lì sopra. Esatto. Ambo, tu perché sei biondo? No, no. Perché per il carnevale abbiamo fatto un cosplay di Mob e Reagan from Mob Psycho 100, capito? Hai capito? No. Abbiamo fatto un cosplay di Mob Psycho 100. 100. 100. Come? Che cazzo spara? Chi è sparato? Guarda quello lì sopra. Guarda lì! Oddio! Lanciagli del sale. Com'è la Jader sale? Vado, vado. Qualcuno a proiettire mi ha vendato. Ma che sta facendo? Ma che sta facendo? È matto, è brutto. Che cosa fa? Ecco, è sopra. Prima abbiamo giocato a The Bridge, quindi adesso è così. No, bro. Ma la ciotro conosce Mob Psycho, vedi? La ciotro. Vedi? No, abbiamo trovato la Wallera. Allora, eh... Voi dai che conoscete questo robo? Mob Psycho. Mob Psycho? Sì. 100. 100. Allora, perché c'è... Eh, perché 100? Cosa, cosa... Cioè, spiegate. Eh, perché c'è sto stronzo che... Scusa. Cioè, mi sembra un pochettino eccessivo, non per dire. Vabbè, che piano piano aumenta la percentuale di quanto la gente lo fa arrabbiare. Ma ho letteralmente una freccia nell'occhio. Ah, una freccia nell'occhio. Vuoi avere qualcos'altro nell'occhio? No. Ah, ok. No. Eeeh... Ok. Hai capito? La schiera. Secondo me non ha capito. Che fa? No, 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 va bene, va bene, va bene. Secondo me è una situazione siumica questa. Guardalo. È pronto a partire. Oh, mio Dio. No, raga, dai, per favore. Cioè, mi sto attirando da una settimana sto sium. Anzi, più di una settimana ormai. Eeeh... Eeeh... E' schiera. E' sium. Cosa, la cam, raga? Che è la cam? Che problema c'è nella cam? Ma non è sempre stata a destra delle penitenze? Ah, no, in questa era a sinistra. In questa era a sinistra. Sì, sì, no, questa era a sinistra. Vabbè. Sì, 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 sì. Non lo so qua. Ma io non lo so. Ma c'è la citerbolina. Ma qui manca un chute. Ecco perché non farma. Ah, ma cavolo. Dov'è? Dov'è che manca il chute? Qui, dalla gravel. Non tira. Ah. Aspetta. Forse intendi questo chute? No, vabbè, proprio un chute. Guardalo. Adesso fa... Minchia è volato. Incredibile. No, ok, va bene, va bene, va bene, va bene. No, ok. Allora, Ambo, che facciamo oggi? Non lo so. In realtà, allora, dalla scorsa live dovevamo finire il sistema di smistamento. Sì. Perché dovevamo fare i drawer per accumulare le cose più importanti. Sì. Quelle di cui ne abbiamo tantissimi oggetti esemplari. Mamma mia. Mamma mia, raga. Giusti in tempo. Matt Suka 2022? Che nome, che nome? Ebbè. Un nome e una garanzia. No, raga, io ho rovinato di nuovo un'altra... Di nuovo è finita. E prima la faccina sotto al mento. Mo, il Suka. È andata così, raga, è andata così. Sì, ma grazie per la sabbona regalata. Grazie mille. Ho uno stick. Che cazzo è un vomito questo? Ho un po' di cibo? Sì. Buono. È un cheeseburger. Non mi sembra, però sì. No, è un plate of shepherd pie. È della torta di shepherd. Mi ha dato no smishment. Incredibles. Incredibles. Bene. Oh, che vuole da me? Ammazzalo. Raga, niente parolacce. Niente parolacce. Comportandemi bene. Schiere. Intanto. Sì. Oltre ai drawer. Sì. Abbiamo anche da fare un mob spawner normale. non questo qui, perché questo qui usiamo gli spawner. E chi ha che non va? Che un mana blaster? Eh, non ci serve un mob spawner normale anche perché ci servono anche i drop. Perché una pistola? Hai una pistola, sei un pazzo. Oddio, ma è bellissima. Che cos'è? Mana blaster. Pium, pium. Ah, è della botania. Lancia mana. Pium, pium. Grazie. Un po' escherico. E quindi ci serve anche quello. E in più... Sì. Dobbiamo anche... Andare nel dungeon a nord. Andiamo a venire a Milano, quindi? Sì, è a nord. Ok. Il dungeon di Milano, poi. Andiamo a Milano City. Ok. Abbiamo tante cose. Dobbiamo anche collegare questa chest al sistema. Cosa? Perché scavo qui? Sono andato a sud. Sbaglio. Eh, lo so il quale. Porto sedere a sud. Ma non possiamo andare direttamente al dungeons? Eh, andiamo direttamente al dungeon. Sei pronto? Aspetta un attimo, Ambo. Non bisogna scavare. Aspetta. Ma voi fate roba in ogni vuoto. Grazie, grazie. Perfetto. Perfetto, perfetto. Grazie. Perfetto, perfetto. Perfetto. Sai cosa potremmo fare per te? Visto che io ho questo rare backpack di diamante. Sì, che è tipo un quadrato. Sì, sì, è più un quadrato. Eh, è un bel backpack che non mi dispiacerebbe. Esatto. Un bel backpack. Facciamo un bel backpack. M per il dungeon crafta le light arrow. Le light arrow. Light arrow. Non ce l'ho. Not zoom, quindi. Forse... Ah, le torch arrow, magari. Ah, le torch. Torch. Ah. Ok. Perché? Oh, ne ho fatta già una. Ne hai fatta già una. Ok. E fai un arco anche. E tira il... Che cosa è questa? Perché mi sono? Non capisco. Ah, ma ci lasciatisi le penitenze. Ma è vero. What the fuck? Ok. Ma sei uno streamer o sei... Oggi è un po' particolare. Allora, sto... Fai un arco se riesci. Oh, sì, ma... Ok. Faccio l'arco, un attimo. Faccio, faccio, faccio. Grande arco. Ok. Guarda, ne faccio... Eh, due, mi dispiace. Lancia, lancia. Spara. Grande! Hai messo la torcia. Ambo, ti giuro, se continuo a parlare così, veramente, vengo fino a dove cazzo stai. Mamma mia. Ah, no, no. Mi stai facendo sani nervoso. Forca puttana. Hai fatto il... Sì, ok, mi servono... Però mi servono altre torce, allora. E le fricce. Ambo si sta valinando a fare i video su YouTube. Ti servono fricce, in realtà. Perché hai allagato tantissimo? Perché io sono in dungeon, ragazzi. Aspetta! È un prank, era un prank, non sono in dungeon, ho fatto il ponte, che cacu. Ma cazzo? Non volevo dire coglione. Coglio. Come si fanno le torce? Stick. Con. Che cacu. Grazie. Ragazzi. Sei un bucci. Allora. Ma questi servono. Posa lì. Mi porto questo qui. Ok, vai, io sono ready, sono pronto. Ma me ne hai fatto il backpacks? No. No. Ma lo fai anche a me? Eh, backpacks. Faccio un attimo il backpacks. Eh, fanno anche a me così. Facciamo il backpack. Common backpack. Quanto è difficile? Ambo, fanno anche a me, per favore, per favore, per favore, grazie. È difficile? Fai, 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 fai. Ci serve il bianco. Colorante? Eh, basta che prendi il coso. Uno e due. Perché non fa? Ce l'hai? Inoltre lo faccio al volo con le ossa. No, ce l'ho, ce l'ho. Vabbè, tieni. Uno. Se non ci fosse il sole, sarebbe morto. Eh? No, sarebbe notte, l'ho letto male. Ok. Non c'è la pelle. Non c'è la pelle. Scusa, come si fa la pelle in questo momento? Ti ha posto qua? Però ma stai giocando a Fortnite, che stai facendo? Stai di no. Stavo tornando. Ah, ok. Ma che cos'è? Ok, ce l'abbiamo. Un slime. Ce l'abbiamo. Tra poco, chat, solo sub per tre minuti. Ma c'è un slime chunk? Ah, te lo devi potenziare. Come? Con il ferro, eccetera? Col gold, è un po' particolare. Ambo, solo anche me, ambo, ambo, ambo. Sì, lo sto facendo anche a te, lo sto... Sì, amico. Lo sto facendo allora. Ma no, no, no. No, no, è... Clicca sul backpack, è particolare il crafting. Ma vuole... L'archemical chest? No, 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 servono solo delle chest base. Ogni tipo di chest va bene. Ecco. Che manca? Che chieders? Manca il blocco di coso, di gold. Che ce l'ho io, ce l'ho io, ce l'ho io, ce l'ho io. Ne faccio due al volo. Non va ancora il backpacks. E mancherà il giallo. Yellow. Manca il giallo. Ah. Dandelion? No. Ball meal sull'erba e... Oh, stasera, raga, tutto tranquillo. È un po' troppo tranquillo, ho paura. Abbiamo dell'erba? No. Ambo, perché ero che riuscita? Abbiamo dei grassi, del... No. Oh, ma questo qui ce la portiamo, però, aspetta. Cosa ti porto? Miguel. Eh, certo, giusto, giusto, giusto. Ehm... È pieno? Eh, bisogna svuotarlo. Svuotarlo. Tra poco partiamo in esplorazione, raga. Partiamo in esploration. Qualcuno ha un crook. Sarebbe? È il coso tipo per... Sì. Ma... Sì. Ce l'ho preso. Ce l'hai. Non avete letto niente. No, non lo so, non so cosa sta facendo Ambo. Eh, sto facendo l'erba per fare il giallo. Non so dove fare i backpacks, ma... Eh, ti sto facendo il giallo. Va bene. Allora, Koi, nel mentre... Parlami in attimo di cosa parla questo anime. Allora, parla di... Un bambino. Ok. Che, sin da piccolo, per un trauma che ha subito... Sì. Ha soppresso le sue emozioni. Sì. E con le sue emozioni anche i suoi poteri psichici. Ok. Sarebbe tipo la levitazione, il... Scudo. Sfrax. Lanciare in giro le cose. Ok. E, dato che l'ha fatto per un trauma, non li ha mai più usati e quindi la sua vita era un po' triste. Perché era un po' uno sfiatello, non aveva niente di speciale. Sono caduto nell'avato. Ok. Ok. E, dopo che... Sì? È successo un po' di volte che, tenendo for troppo le emozioni dentro di sé, è arrivato al 100% di contenente di emozioni. Per questo si chiama Mob Psycho 100. Ok. E quando arriva al 100% non riesce più a controllarsi, esplode e la sua parte di sé, che è tutti i poteri che però lui ha sempre tenuti nascosti, scoppia e fa un bordello della Madonna e... E lui non vuole. Perché, appunto, il suo trauma è che una volta è scoppiato quando c'era il suo fratellino piccolo e gli ha fatto male. Praticamente. Però... Sì? Piano piano ci sono delle persone che vanno nella sua vita... Sì? E gli insegnano che... A migliorarsi senza usare questi suoi poteri pazzeschi, incredibili. Ok. E l'anime parla di self-improvement senza usare le particolarità che si hanno. Tipo che lui era specialissimo perché aveva questi poteri fortissimi. Che però, per migliorare se stesso, non usava. E basta. Ok. Cioè, li usava per... Contro i cattivi, capito? Ah, mi sono spaventatissimo! Cos'è successo? Ha stato. Stop. Enrico! Se Ambo si avvicina o gufa sulla probabile fine di minime eme, poi vi chiedo di terminarlo. E ricordo a tutti di entrare nel gruppo Telegram. Ecco. Usami? Su, Uca. Ah boh, sono una disgrazia praticamente. Enrico! Nick di Minecraft? Che me lo scusate, sarà penso come questo. Qui Enrico, classico, matto, eccetera. Va bene, o comunque... Ok. Ok, ok, va bene. Naturalmente tu hai detto tutta questa cosa senza spoiler, giusto? No, senza spoiler. Senza spoiler. Senza spoiler. Infatti poi ci sono dei nemici, che sono i classici nemici, che però, dato che parla tutto di self-improvement, anche loro avranno uno sviluppo di character che andrà verso il positivo, un po' come tutti. È molto bello perché si concludono tutte le vicende di qualunque personaggio che introducono mai. E quindi è abbastanza completo come anime. Ah, ho capito. Ho fatto il giallo. Perfetto. Ce l'hai fatta, Ambo? Ho fatto il giallo, sono stato bravissimo. Finalmente, Kohe, avremo i nostri due backpacks. E schiere. Ragazzi, veramente, dopo il siume, parte le sghere, è finita di nuovo. Cioè, io ho... E me, metti le chest, per favore, quelle di stone, grazie. Sì, padrone. Come per terra? Non per terra, nel senso, nella crafting. Aspetta. No, questo non so parlare. No, ma non lo so. Dov'è? Messe, poi? 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 Niente. Non lo so, ho perso la voce. Non lo so. Wow. Mancano le chest. Ma come mancano le chest? Quelle di stone non vanno bene, a quanto pare. Oh, aspetta un attimo. Quante ne servono? Quattro? Sì. Fatto, frate. Tieni. Oh, finalmente facciamo questi backpacks. Dai, crafta. Let's go Uncommon Backpack. Uno e poi fai il tuo. Tu ce l'hai? Scappa, 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 scappa. Ma come? Scusami. Come uno e poi fai il tuo? Cioè, che vuol dire? Perché tu ce l'hai il tuo backpack, no? Mannaggia. O l'hai messo nel sistema? Enrico, grazie per la sabbola regalata. No, aspetta, la metto nel sistema. Fatto? Non me lo fa? Perché non te lo fa? Ecco. Non lo so. Ah, ok. Guarda quello. Andiamo! Si parta l'apertura, amici. E io? Eh, tieni. Te l'ha fatto, te l'ha fatto a Ambo. Ok, come se dove lo metto? Andiamo nel dungeon. Vai, vai, vai. Let's go, let's go. Oh. Eh. Andiamo. Ma, raga, ma lasciate solo sabbè, dovrebbe essere finita tipo un quarto d'ora fa, comunque. Non per dire. Cioè, è stata fatta... Oh. Jesus Christ. Cosa è successo? Tu riducchi. Ok, fatto, fatto. Pavetta, grazie mille. Grazie mille, Pavetta, grazie mille per i 21 mesi. Come stai? Arriva, raga. Perfetto, sta arrivando, me lo matto. Mi fa male l'articolazione. Oh! Minchia. Raga, non vedo nessun... Un non-sub che iscrivi in chat. È stata rispettata la chat solo sub? Cioè, perché o sono tutti sub, o c'è un problema? Tutti sub, sì. Ok, tutti sub. Let's go. Vuol dire le schiere, per caso? Le schiere, le schiere, le schiere. No, raga, non può essere che... Non sta scrivendo un non-sub in chat. Oh, oh. No. Cosa è successo? Vabbè, sarà un problema. No. No. Aiuto! Aiuto! Vabbè, lo lasciamo lì. Sì, sì, sarà un problema futuro. Oh, lì. Vabbè, non c'era l'altezza 84. 80, sì. Ah, attenzione. C'è il capo Pasqua. Grazie mille per il premio della ciurma. Bro, entra in gruppo 3 che non riescono di OTG, mi raccomando. Breva 250 membri. Sì. Scherzo. Ok. Andiamo, andiamo. Dai che ci siamo quasi, eh. Come scavano? Piano, 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 piano. Night Vision. Ah, giusto. Piano, 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 piano. Ok. Stiamo arrivando. Ma che dici, Ambo? Ok, stavo a mettere Night Vision. Sto facendo un rituale. Sto facendo un rituale partenopeo. Esatto. L'evocazione suprema dei... E, Ambo, Ambo! Una domanda per te! Mi stanno spuntando su TikTok, anche. Sì. Quelli che fanno... Fermi, secondo. Fermi. Dobbiamo scendere. Eh? Era verso il basso, non verso l'altro. Eh... Sì, ripeti, vai. Mi stanno spuntando su TikTok, mi sono spuntando il tempo fa su TikTok, quelli che fanno da te, tipo... La spiga di mais. La spiga di mais? Ok, quindi... Ok? Mi spieghi perché minchia la mangiate col ketchup e la... La... La maionese, eccetera? Sono aggiunte. Sapore. Dovresti provare. Perché non provi il mio... Eh? Manichieretta. Il suo... Panzerotto. Il suo panzerotto... Gourmet. No, ma è vero, cioè... Non ho mai visto... Cosa è una spiga? Però... Dove cacchio cresce il mais? Ah... Eh... Cioè, va bene tutto, però... Il sapore, comunque. Ma io... Pari italiano. Cioè, è comunque sapore. Extra. Eh, ma... Ma perché? Cioè, è la pannocchia, la pannocchia, raga. La pannocchia. La pannocchia. Ok. Solo i portano peli o chiamano spiga, cioè? No, non mi viene la parola pannocchia. Però... Quello che dico io è... Perché... Io la vedo che tramettono lì, sopra la cosa. Ci mettono solo un botto di... Di... Maionese, un botto di ketchup, te la rollano tutta e te la danno. Perché così non è più una pannocchia. Perché la gente non mangia la pannocchia. Perché che schifo, i vegetali, che merda. Perché la fanno allora? E quello è il problema. Perché se tu aggiungi altro, non è più quello. E quindi... La gente lo mangia. Che schifo, i vegetali. Cioè, ma... Io boh... Va bene, ok, ok. Cioè, prendo per buono la tua motivazione della... Io no. Ma siamo arrivati. Ma non lo so, io sto seguendo già... Ma è solo tu sopra. Oh, Stone Dungeons. Stone Dungeons Incredibles. Siamo arrivati. Perché c'è... Diamanti! Ottomila! Ottomila diamante! Oddio, parkour. C'è un parkourer qua. Ragazzi, attesanze che soldi... Parrot, parrot spoon egg. Vadovi far luttare ad Emeralds. Aspetta! Un parrot spoon egg, però. Ma questo è potenziato! Cosa? È potenziato, la strega! È morta! Ma non dovremmo spaccare lo spasco? Dovremmo, però... A meno che non volete spammare. Farmare i tridenti o lo spaccherei? No, 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 no. Ok, lo spacca, 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 spacca. Che il pipistrello ha amato qua? Fatto. Se mai potevamo mettere le torce e tornare... Se mai ci serve un... Beh, sì, anche. Ah, giusto! Ah, mi ha detto un amuleto! La... Aspetta che... Illumino! Stunk! Sono tutti potenziati. Stunk! Oh, chest! Però sei poco pertinente, eh? Sei poco pertinente. Poco pertinente. Ahia! Eeeh! Che fa il pillager qua? Oh! Ma, è fortissimo! Raga, ma gli spawn egg, se noi abbiamo i mob spawner, possiamo usarli? Ma c'è un'orda qua! Sì, possiamo usarli, ma c'è un'orda! Sì, ci sono insacuri di sottile. Oh, ma chi è tutto sto bordello? Creeper! Oh, man! Oh, una spawner! Una cassa! Cassa nascosta! Oh, no! Vieni a te! Tranquillo, ho fatto, ho fatto, è disinnescato! Quanti sono scheletri e pillager brandy che quasi fanno... Che è? Non è un no. L'interno. No, i pillager non droppano smeraldi. Che droppano i pillager? Un cazzo! Io premo. Eh, matalo, matalo! Ma aspetta che... Quanto non cazzo i pillager! Ok, fatto, fatto, fatto! Eh, non droppano nulla i pillager! Ecco, Ambo. Metti torch. Ho messo le torch. Vabbè, abbiamo due spawner. Perché ho luso il backpack? Raga! Eh! Ma se c'è un trident nella chest! Ma guarda questo! Questo subito, prende tutto, prende! Lo lasciamo dentro la chest, però, dai, vabbè. C'è pure un... Un... Un specchietto. Apparo le cose su! Tranquillo! No, Ambo, tranquillo, non ti ingrippare. Ma che? Strei spawn egg, incredible! Che non guardi le chest, però? No, è quello di prima! Ah, con gli spawn egg possiamo fare gli spawner. Questo adesso ho ascoltato. Hai capito? Chest, chest! Vuol direi che non ho ascoltato niente questo! Chest! Torta! Iron Hole! Sella! Ma non vedo nulla di interessante, però. Sto donji mi sembra un pochettino una scammata, Ambo. Ma come? Ok, colpa di Ambo, ma... Prendi, guarda tutte quante le cose, qua i barili. Aspetta, i bottetti di Oni sono buoni, no? Ambo, sembri uno che vuole fare il kickbait. Ma infatti, smettila per favore, Ambo, veramente, che ti dona una testata. I barili! Ehi, c'è un creeper. Che è sposo? Honey bottle! Ma, Christian. Oh, Ambo, mi hai lasciato il Mobius Fuel! Eh, lo so, lo voglio far prendere a te. Mamma mia. C'è il backpack. Ma che sta a fare? Ma che sì, dobbiamo. Qui, Ambo, pare che sta facendo pvp. Spada di... No, non ho qualcosa. Va bene, Ambo, calmo. Spada di legno, che me ne... Oh, Diamonds! Buona la Wick Blood, Blood. Boh, io metto questa qui, tanto per in me, ma... Aspetta, raga! No, raga, c'è un problema! Eh, cosa? Ma... Aspetta, fate andare via sti cacchi di Mob. Gnum, 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 gnum. Ma... Cosa? Boh, vabbè, lascio qui. Non lo so, l'aveva messo... Piovanti, piovanti si fa interessante. Sì, sto vedendo. Intento che si scoppara la cesta. Ok. Raga, molte cose le prenderemo sicuramente dopo, perché qua... Io spacco sto coso, ma sono durissimi. Quello delle streghe è buono streghe farm di di coso Quello schedero era cr7 siuuuum Manas del chestplate, oi mape io Sus gem Un bello, però scopo che scopo qualcosa qui Ma aia perché era così bella stasera Mi fa schifo Guarda questo che 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 c'è o più più il mobile no vabbè assurdo Raga ma ci sono i mob spawn e nascosti qua dietro cioè beh certo Andiamo avanti Non mi piace qua sto punto aspetta no beccato Che cazzo fai chloe? Aia scusami ambo Volevo fare il mob spawner Dai il fuoco con la tua No raga è pienissimo raga c'è un problema Ok li ho bloccati li ho bloccati Però Ma vuole mori questo Spistrelo Ok La source gem ti serve per una mod magica Ok ok Spistrelo Ragazzi c'è un bordello immaginate con le penitenze è finita Poi hai posato il backpock Non lo so perché mi serviva Ma non è già in po' uno Era un momento di prank Vabbè raga mi ha avvelenato la strega Gigante con la strega No raga raga mi ha arrivato tipo la pozza anche di Stent the Mage La strega è matta e skillata E il veleno Maia Cristo Ho trovato un sojourner sashash Ma sta ciaggando Sta ciaggando Oh chi mi ha sparato Raga non si fanno questi scherzi Vai raga entrate 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 Fatta fuori fatta fuori Guarda che bella zona Ok Quanto dà sto cibo Tridente Vabbè coi ma sei proprio stupido Eh vabbè Eh Ehi 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 Ho trovato ragazzi la chest finale Ehi Vabbè raga assurdo Non è la chest finale Non so ma c'era un botto di roba dentro Quindi per me è quella finale Oh protecci un quattro aveva Eh comunque Uno ad ognuno Che questo è buonissimo Ho trovato il phantom ink Non so cosa sia raga Io metto tutta la roba Dentro il mio Backpacks Backpack vai vai Che è quasi full il mio Buono Io lo ho già Ma ecco Ambo questi dungeon Hanno qualcosa di particolare Oppure No Sì Ti droppano questi qui Silverfish shard Che servono poi per spawnare Ma la tua madre Ma la tua madre Tre volte Sì Però Spanare tua madre Ok Eh però Sai com'è Dovremmo Tipo Capito? No Ecco io Torta Manastilla Testa di Di Cosa Buona Funziona 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 Oh buona Torta Ok Bene Di cui è finito Ragazzi c'è un pezzo di shulker Qua dentro Buono Comunque questo è il dungeon iniziale Poi c'è quello del land E quello del nether Ah ok Ha già capito tutto Google Grazie per l'informazione I cristalli sono belli Comunque Ok Ed è finito Ah no Continua per di qua Ma qua c'è una zona parkour No vabbè raga Incredibile Facciamo parkour matto Subito Io ho già sbagliato Oh Brone Vabbè raga che ci voleva Qua continua Eh Sto andando qua Raga qua Easy E qui ma c'è anche l'altra zona Uè Il lupo mannaro A posto Andiamo Andiamo Ma qui a sinistra ci sono delle chest Sì qua avanti Poi a destra E poi ci manca una canzone indietro Se guardi la mappa Poi lo fa tutto Aia Qua si fa Qua si fa ancora Usex 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 rp Usex rp Cosa Usex rp Usex rp Usex rp Usex rp No raga raga c'è il creeper matto Oh Io ho perso metà vita No raga Io devo scappare Ok mi sa che questa è la parte finale del dungeon Orco giudo Non mi dire Ammo ma sei quello per spicacia della famiglia a quanto pare Sì esatto Raga mi ha ammazzato Non ti ha ammazzato Non ti ha ammazzato Perché sono fortissimo Vabbè Ammo Non c'è bisogno che te la tiri comunque No no è giusto Bisogna triarsela nella vita Raga c'ho mezzo cuore Raga ho mezzo cuore Eh curati Mangia mela d'oro È sempre un po' spiccato Sì sì Lui è l'uomo dei consigli Esatto Patetico Sei patetico È patetico Vincerei nella vita Raga ma avete un pochino di cibo Sì ho un Un Come si chiama sto coso qua Top Vabbè Ammo Nella Assurdo Ma le voca mi sta C'è le voca Vabbè ma ce ne son due Ce ne sono Sì ma ce ne sono 70 Oddio Cristo Ronaldo Oddio Che scherzo Ti giuro se muoio o disinstall Non disinstallare Ma che ci fanno i phantom pure Non lo so Ma scusate non volevo Patetici Patetici questi personaggi qua Ammazzato uno Mi colpiscono e poi vanno dentro la muro Patetico patetico Ok and play Ma tua madre non ti voglia È vergognoso Dove sono finiti Quello appare Quello appare Aia Oh è morto Ok Bravo Dobbiamo lasciare i cosi Gli voca Dobbiamo conquistare la zona piano piano Esatto Fioviolo Grazie mille Grazie mille per il premio Deve lasciare un video Su un gruppo telegram Oh mio dio Ammazzato uno e voca Ammazzato l'altro Let's go Ah ma era un po' come una shot one kill Eh si Ah ma 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 c'è un psico Fano malissimo Sono morto Sono morto Sono morto Mi sacrifico io per voi Sono morto Sono morto L L L L Skill issue Skill issue L I can't even play Versus minecraft mobs What the fuck Esatto esatto Skill based Ma tu non lo avrai Non mi sembra giusto come Ma tu chi sei Come sta le fametta Raga mi sta piacendo sto dungeon Sono post mortal Sei post mortal Vedi Eh io non sono morto Diferenza tua Sce molto Eh se avessi avuto lo spazio Per il spazio Eh Lo spazio per il spazio Cora dimmi che hai un poettino di cibo Per favore Sì Hai un vex dietro Grazie Ok Deve facciamo fuori questi Ma sei patetico sei C'è un altro Peggiore mob mai creato Falle esplodere Sì godo Godo Ma ne sono spawnati altri C'è lo spawner C'è lo spawner Si farma Si farma Porta a casa Porta a casa Ma non di Di quelli Di witch Ah di witch Sì di quelli mi sono Eh Raga Sono bloccato Ah è sì Paralizzato Ma perché stai cialgando Ma non lo spaccare quello Cos'è? È di più È di più entità Quando è wither Scheletro Ah ok Quindi se lo prendiamo Quello che farò Ah ah Oh mio Ma c'è qualcosa che mi Ma smettono sti L'ho porto a casa Questa bella rumetta Eh 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 Dai Roma Dai Dai Roma Dai Dai l'urto Allora Si sente ad aver perso Contro Dai Roma Che te l'ho inviato io Minchia Ah tu mi hai inviato Dai Roma? Ma io te l'ho inviato Tipo tre In quali tu hai riso Minchia Mi devi 15 euro No no Dai Oh Co'è? Mi dica Dove sei? Oh Sono Sto portando via Lo spawner Perché? Vieni qui Aspetta un attimo Che qua Questo mi vuole Oh Guarda sta cesta Mi devi dire qualcosa? Siuma 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 Eschere Eschere No ragazzi Dovete smetterla Mannaggia Ma proprio una situazione Escherosa Posso dirlo Escherosa? Eh niente Escheretica Allora Quindi abbiamo finito il dungeon E questa parte Si C'è un'altra parte Oh Oh Un punto esclamativo In che senso Un punto esclamativo? Un punto esclamativo Guarda L'ho ciucciato No Advancement Come al solito C'è un'ultima parte Che Andiamo 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 Dove 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 Umbuds Aspetta Aspetta Nobbo Dietro A posto A parte che di qui ci sono due ceste Una trapped Non è tra Trapped C'è Un taratatack Ma c'è il trap C'è il trap A questo Mi si è innescato Una cosa C'è una Hoe Una Fortuna Uno Una Qua Bene Piccone Di me Vabbè La cake Me la ciuccio C'è questa parte di qui che non abbiamo visto e poi abbiamo finito Andiamo andiamo Questa Perché mi sa tanto di Mi si è addormentata la gamba destra Muoio Che è sto coso Ehm Qua mi sa che si è spacciato Come è possibile no Ehm Il primo sintomo vuol dire che sta diventando napoletano Ehm 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 No Qua non c'è bisogno che piangere Non devi piangere Ok E' una cosa bella in realtà Ehm Ehm Di i pro e i contro I pro Non ci sono contro di essere napoletani E i pro quali sono? Che puoi andare a mangiarti subito il panino Con mollico senza We come in peace We come in the name of peace Ma quanto è veloce sto coso Si E io sto un po' stiamo amarendo Ok Che c'è questa cesta? Ma nulla Ah ma quella cesta da sopra scusa Ehm Da l'onda Porco Il diavolo Il diavolo Il diavolo Il diavolo C'è la cesta da sopra c'è Io sono napoletano e si vuole una meraviglia Ma ovvio Ma regà Ma vuoi mettere? Sì certo Vuoi mettere? Ma fate spedere una cesta raga GG Non c'è differenza Eh però L'internet potion of healing Ok Oh ma questo? Oh buono La Wither Rose è interessante Sti cazzo di glow squid Allora prendi sta cesta e prendi anche quella E ambos sono pieno E neanche io sono pieno GG Sì c'è un so che dirti Sono veramente full No aspetta mi sono un attimo risuotato l'inventario perché ho messo alcune cose che si sono staccate Buono Ma forno Ok Puoi prendere anche questa Ho fatto un errore Ho fatto un errore Conoscerambo sì Direi che ho prende questo Ok vai Andiamo 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 via a casa A casa a casa Torniamo a casa raga Addio mio Vabbè ma ho avuto cose buone Vabbè sì ho un pochettino di loot e niente male Va bene va bene Andiamo andiamo Torniamo a casa Ho fatto un errore Spawno pure i vex questo spawner No no bro No dobbiamo attaccarci un po' Ok devi toglierlo Toglilo subito Allora carino come dungeon Abbastanza complesso anche in certi punti perché Abbiamo un attimo sofferto Ok sono scarso Ok Fino lì Ambo non c'è bisogno che lo specificavi Lo sa tutta la chat Vabbè però eh Ce la puoi fare Ok E non blocchi frate No 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 E tu sali Tu sali No c'è la statuetta C'è la statuetta C'è la statuetta Allora aspetta 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 Ambo ambo Prendi questo Questo Subito Come faccio Non ho spazio Ok Fatto vai Ok Ambo Ok Sei matto Tua 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 Aspi grazie per la livello 3 carissimo Grazie mille L'antica statuetta andava presa in salvo E l'abbiamo presa Quanti punti mancano No ragazzi siamo ancora all'inizio Mi sa con la challenge Devo arrivare a 104 punti E cambio l'immagine profilo di Twitch Porco Ehi Non si dice No mori avvelenato in game Ok siamo arrivati Perché c'è un lupo Eeeh Uuuuuh Eh tanto se lo vediamo Chi è in merald in silenzio? Eh in merald in silenzio Quindi Uuuuuh Ma Ne hai tolti tutti? Oh Nero 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 Come si stacca Game F3 Eeeh Sì Di solito Aspetta Aspetta Left click Options Button Options Pose mouse Kersa Roadtab Music Sound Options Pose mouse Kersa Roadtab Button Select 3 Come Accessibility Settings Ecco Nero Eitar Off Ah Fatto 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 Ma sono Questa 6 Allora 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 Dopo vedo Ok se Grazie mille Grazie mille Allora Eeeh Coe Troppo Troppo Un poco Di roba Ma perché Non le metti Dentro Perché Devo Rinominare Aspina Aspina Iscrivi il Tuo nick Di minecraft In chat Per fare Aspi Che Piazzo Grande Statuetta Le metto Qua Le metto Qui Qui In questo Punto La cosa Giocate E' la Stormblocks Ma non so Se funziona Così Testiamo Io voglio Riprovare Sì Funziona A vedere Se riesco A usare Il farming Perfetto Fatto 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 Allora Metto Tutta la roba Qua dentro Schiaffotto Tranne Le sabone Ok Le sabone Andiamo a mettere Qui Eeeh E' tutto Pieno Ecco Allora Ambo Dobbiamo Adesso Ma Ambo Scusami Ambo Ambo Ma Se facciamo I vault Della create Un vault Tiene Tipo 20 stack Di roba Ed è un blocco E' ok Qui è pieno Non lì Ah Anche su Anche la cesta Su Ah E' tutto pieno E' tutto pieno Abbiamo troppa roba Bro ma è me broken Abbiamo troppa roba E falli crystal Un attimo Allora Non possiamo E' tutto pieno E' apri Aspetta bro Aspetta 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 E come facciamo Ambo Aspetta Allora Dobbiamo fare in modo Che tutta questa roba Vada nei drawer Oppure se vuoi Nei vault Però i drawer Sono più compatri Sì sì Facciamo i drawer Drawer Al volo Vai Allora Drawer Tanto sono fortissimi Sti drawer Sono Hawk drawer Vabbè Non ci viene nulla a farli Sì sì Infatti sono rotti Bro che no Perché c'è la strega Non lo so Una scelta inconsiderata Di azione Perché? Allora Ma li crafti tu i drawer E li faccio io Non ho capito Sì sì Facciamo subito Facciamo subito Allora Sapling 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 Dei sapling Di Hawk Massimo Ma perché Spawni fuori? Coe Che succede qui? Oh no Perché tu t'ha lagato Coe? Eh coe? Qualcuno ha detto No Oh no Ragazzuoli Io vi ricordo Che Queste Queste sono Le penitenze E E potete interagire Appunto Con noi Tra cui c'è quella Vi ricordo Da otto Che uno di noi Viene chiccato Dal server No c'è un creeper Pure qua Raga What the fuck Oh no Attenti Oh Isplode l'evoker Bro Direi che togliamo Lo spawner di evoker Dattemi un secondo Che sta succedendo Con la sopra? C'è un phantom Dattemi un secondo Coe? È aperto Non capisco Ma non è aperto niente Come che da volo escono? Spawnono fuori Sì Spawnono sopra Sopra? Sopra sì Qua direi O lo rifai Che mi sa C'è un problema Ma tu che cazzo Eh Aspetta Aspetta un attimo Io qua Apro le tue la roba È arrivato la donna Ok sì Spawnono sopra Di brutto Sì Spawnono sopra Di brutto sì Oh Ma qua Spawnono fuori Così Oddio Basta Spawnare sopra Ti prego Non lo fate Eh Serve Di metterci la cosa Le slab Aspetta Arrivo con le slab Vedo le slab Faccio scala Faccio scala io Faccio scala Buce è una strega Che mi sta sparando roba Mi sa Ok Sono qua con scala Sono qua con scala Aspetta Combatte da soli Oh Oh Ma che sta succedendo Qui Eh arriva Oh Come scappa E' fuori controllo No Rega Rega Allora Ma quanta roba No Come metti torce Ragazzi c'è un bordello Che sta succedendo Questo sta succedendo Non riesco a tornare su Dallo spawner Abbiamo lo spawner incontrollato No Io avevo detto rifallo Oh Oh No Ho messo le torce Ho messo le torce Ho messo le torce Ho messo le torce Favetti si va a festeggiare Porca Sei scemo Fai di ossidiana Di ossidiana Vado 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 Prendo così No Mamma mia Sto cazzo Di phantom Non mi prende Che non prende Che c'è Ok Non capisco Che non prendesse Vabbè Ok Mamma mia Mamma mia Tranquillo Giorgi Mus Ti banno io subito Tranquillo Ti banno io subito Che è succeduto L'ha bannato Non farci un pazzo Ok Allora 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 Miglior livello Per cercare i diamanti 13 Ma porco 13 13 Allora Ok Io ho fatto le slab Da mettere sopra Perché se no Spawnono sopra Anche c'è Oh eccolo qua Che devo fare Lo storage control Questo devo fare Ma se mi dai un pochino di cosa Forse ti do anche io una mano Tieni Ho trovato un enchanting apparatus Cosa Eh ho trovato L'apparatus Tieni Ambo te lo lancio giù Ma perché questa forma Bislacca È Perché così più piccolo Però Fa lo stesso lavoro Certo Perché le dimensioni Non contano Non contano Come disse L'apparatus Spanto Ok Ma Combine Fondare molto di più Non mi ricordo Se la pavessette Una roba simile No 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 Ma l'abbiamo detto Un sacco di cose Facciamo il tetto A questo livello O più alto Io direi che Oddio No Uno più alto Sì però C'è tutta l'acqua Qui E ma Tappiamo Un momento Ma che lamento Sto ragazzo I draulici Non so Non fa nulla Ma guardate Questo C'era incredibile Non ho capito Ambo È tipo Delle spensione Degli draulici Tipo che vengono A casa tua Però non Sistema Mai nulla No Ah ok Mi hai fatto sbagliare Con la tool Adesso devo spaccare Un sacco di roba Ok E adesso Qua sopra Andiamo a mettere Le slab Così non Spacco Un sacco di roba Va bene Non ci worry Allora Un attimo Forse ho tappato L'acqua Che dava fastidio A Dumbo Aspetta Fermo Che ho usato Il tool Che non voglio sbagliare No Bella raga È stato un piacere Quanto 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 Non lo so Non lo so È finita Non lo so neanche io Però è un piacere Lo stesso No raga Aiuto È morto Letteramente ragazzi Sembrava La società Marinara Giù in Sicilia Tutti che si chiamano Torreddo Incredibile Raga però Un creeper Ha ucciso Tutti gli altri Da non credo Quindi posso Perfetto Ragazzi Ma qui mancano le torce Ragazzi a terra C'è 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 Però Le statuette Sono vive Favetta Grazie per i 10 sabboni Favetta Grazie mille Raga Tutti i nuovi abbonati Che hanno ricevuto L'abbonamento in regalo In donna ringraziate Favetta Come prima cosa Favetta aveva il piano Di far esplodere un creeper Qua così Toglieva le torce E sponavano tutti gli altri mob Ebbè Sì E in più Entrate nel gruppo telegram Entrate nel gruppo telegram Raga Ok Ho la diegos Ok Toc 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 Ok io ho fatto i drawer Toc 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 E come li facciamo Lo farei i pipes Sì Toc 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 Chi si diamo Mi nerfasi un po' di osino Aspetta Arrivo Tenghi In ditonoli 14 Hein Non è più Eh lo so Mi sa che cato di qua muoio Ma che vuoi Guarda questo Oh no io sono bloccato Abbiamo i pipes Let's go Tra poco ne ho chat Solo sub per 3 minuti E' arrivato il momento raga che se avete il premio Di fare la sabo si potete continuare a scrivere Mi sa No 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 Regà allora Allora E altri tu riddi E Elena Sono vivo Madonna mia Madonna mia Ho salvato la farm in calcio d'angolo Ok Fatto Mamma mia Mi salvaso in calcio d'angolo Elena grazie mille Le torce Guarda oh la cesta è finita perfetta Signore animoni Comunque Le torce Tutto ancora la safe Ma che vuoi da me Le torce Metti le torce Premi F7 Metti le torce Qua hai risponato il coso trader Guarda Che vendi F7 Oh Torcia Torcia No 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 Eh raga Eh vabbò Eh vabbè raga Ma è strunato da me sto strunno S'ho cagato in mano Dai che ammazza l'ultimo GG No l'ultimo è qui Qua è t'apposto Raga gg Aspi grazie mille Ho tolto le torce Tutte le torce Allora Raga qua sotto Vi ricordo Arriviamo a 104 Sub E cambio l'immagine e profilo di Twitch Ma avete soltanto questa sera Deve fare attenzione Perché qua Se non ci arriviamo E l'immagine di Twitch la scegliete voi naturalmente Ma guardate questo Ragazzi ho quattro totem Totem del non morto Bravo Scusatemi ragazzi Mi sono un attimo Ho fatto cospe di Ambo 007 E io faccio questo Vuoi fregare me Io frego te Ma che vuol dire Ma che sta facendo Raga io Ho noto una cosa Che Non è che abbiamo problemi di cibo No Ma va Cerca qualunque Tipo le patate Tipo le patate Abbiamo veramente un bocchio di patate Adesso è vero che sto notando Le sto continuando Buone le potatoes Buone Allora Emerald Visto che tu sei Sono io Bravo Oddio lui Mi fai delle brass rod Delle Delle brass rod Certo 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 Ma certo Ma certo Perfetto Delle brass rod Sì Eh no bro Per farle Aspetta Eh no Serve L'oggettino matto Per farle Rolling Ah Aspetta No è fattibile È fattibile Non è un props Allora Ma tanto gli andesita Alloi Che li facciamo tipo Subito adesso Ok Stuck Manca quest Allora mi serve Un altro di questo Olè E poi Oh Raga serve il coso Il Ah no Il log di legno Ce l'abbiamo Ok Ok Stuck 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 Perché dice che mancano Ma se L'ho craftati Ah ma me l'ha fatto Infatti Ok a posto Me l'ha fatto E quale Potatoes Yes Ragazzi Di nuovo Libera per tutti Ma minecraft Non me lo ricordavo così Ma infatti Questo qui Minecraft 2 Ce l'abbiamo in anteprima Eh sì Molto Molto Oddio Mi somiglia Aspetta che forse C'ho la soluzione Edz Vai Ok Hai la roba in brass No Le brass rod Vai 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 Quante sub mancano Eh tante Trivella Non lo so quanto siamo È scritto sotto la mia camera Siamo ancora a 25 su 104 Piano piano ci possiamo arrivare Piano piano ci possiamo arrivare Intanto grazie ancora Aspi Grazie per 5 Elena E a Favetta Grazie mille Siamo a un quarto Più o meno Sì esatto Stato easy Il brass ce l'hai? Sì 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 Stato easy Passa il brass Ma l'ho fatto Ah già hai fatto le rod? Sì ho già fatto Ah ok Ok Andiamo a prendere un Ma qui quindi hai fatto tutto Che hai fatto? Perché non mi sembra funzionare più di tanto Sto coso Ambo? Perché Beh Ok adesso dovrebbe andare Più veloce No Prende questo Ah non è possibile Perché non prende Oh No No eh vabbè Eh ciao Ciao Eccoci qui No regà dai Avevamo fatti i draw Diego Ok lo spawn è da posto Diego No regà la farm Tutto rovin' è da posto Nooo Nooo Vabbè ce l'ha fatta una persona più sfortunata di noi Non dobbiamo arrabbiare Drawer control Drawer control C'ha la Allora aspetta Allora aspetta Ambo perché mi sa Ma si è rotta roba qua Nel senso Del meccanismo No non si è rotto nulla però Meno male Posiziona tutto Però dobbiamo ricomporre sta cosa qua Eh si si è un attimo Su gruppo telegram Cos'era quel sospiro Ambo Che succede cucciolo Ah ok Eh vabbè ma capita Ambo Capita Non può andare peggio di così Tranquillo Ricordati di questo Quando scoppia qualcosa Eh basta Hanno fatto Eh C'è una di lusso che in realtà Non è scoppiato nient'altro Olè Non so se ho sistemato correttamente però No Questo infatti qui non ci deve stare Ma quanto è brutto Vabbè non ci facciamo caso No Ambo aspetta aspetta Ecco c'era la slab qui Da mettere Aspetta Aspetta Fatto Ok Ah è tapposto tapposto dai Aspetta che qui Sistema ormai Con i bricks Ok Grazie mille Diego per i dieci Grazie di cuore Vabbè Diego però c'era Mamma un pochettino Particolare Grazie di cuore E poi E poi Guarda Un po' Alternativa Guarda Ha sburrato Tutto ha fatto Ha sburrato Ha fatto Perché c'è un ciute qui Dove manca un ciute Io c'è una rotellina Non so da dove l'ho presa Ambo Perché il sistema funziona senza le rotelle Scusami Manca una rotella Ah aspetta era qui 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 E qui che è Mio santissimo dio Che quasi tappa Diego grazie mille per gli altri dieci Niente Sono andato No Eva povero Eh va bene E niente Non si può fare oggi la farm Ragazzi è finita Che è successo Oddio mio Santissimo Ma io volevo fare una farm Semplice Semplice Anch'io Anch'io Bello Bello No Ah Boom Favetta grazie per le dieci La festa continua Ragazzi zitti zitti Guardate che veramente stasera Mi tocca poi cambiare l'immagine di Twitch Ragazzi io c'ho Io c'ho quell'avatar Non c'ho più neanche la foto originale Per farvi capire C'immaginate Poi da dove si vedeva tipo Cacchione Non so L'account Emerald Con poi Immaginetta M104 Per esempio Perché sceglieranno quella Tipo Sì Sì Molto No La chest Madonna Mi sono appena Scricato Telegram Devi fare Un'escrizione Tg Così Scrivi al bot E ti fa tutto quanto Il bot Ti dà tutto Lui una mano Allora Comunque No raga Già tanto già lo so E perché ancora non ci hanno pensato Ma ci penseranno Alla foto sicuramente Io già ho capito Cosa mi faranno mettere come foto Che ci fa una chest lì Io già lo so Io già ho capito Cosa mi faranno mettere Se faccio una delle foto Vabbè Diego Vabbè Qualcuno che ha messo il suo nick Ah no Che è lui Ok Che è proprio lui Il deficiente Ok Godo Diego Godo Diego Godo 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 I capelli Godo Godo Ok allora Devo fare Perché mi scopri Perché Devo fare Non rispondere in maniera Tossica Che mi sta donando soldi Non capisco Perché devi Ma dov'è l'erba Questa Questa è la vostra È vero che fino a fatto Dov'è l'erba È esplosum creep Questa Questa è la vostra influenza Comunque raga È colpa tua Ambo È colpa tua Coe Perché Perché prima io Perché prima di fare Live con la sede Le penitenze Io ero chill Ero tranquillo E quindi Siamo una brutta influenza Tipo Sì La tua madre ti dice Che non devi stare con noi Intanto Mia madre Non la nomini Ok Mia madre dice tante cose Io ho detto il suo nome Ho detto tua mamma Intanto non sai come si chiama mia madre Esatto Laura No Vincenza No 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 Il suo nome madre sia No 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 È un nome comunissimo E E non essenzialmente Non lo indoverete mai Ecco Diatrice No Graziella No Maria No Vabbè Niente Basta ci arrendiamo Non l'ha visto Ci arrendiamo Dicelo No No Vabbè No Sorte No Frato Ambo ma quindi ora Il Eh ma non funzionano più i storage drawer Di nuovo Perché mi sono dimenticato Di una cosa importante Ma c'è C'è Mighele che si sta mangiando tutti i drop Beh ti te lo dico Allora Dobbiamo fare una cosa magica Vediamo se riesco Raga 69 Sub Punti Drop il nome della mamma Si Siumi Sium Si chiama Cristiano Ronele Adesso funzionerà Probabilmente Un attimo tolgo questo Come Diego Grazie mille Per gli altri dieci No raga Ti ho scritto un po' di nomi Nessuno ancora l'ha indovinato Incredibile Ok adesso dovrebbe funzionare La smette Non te la prende con Miguel Guarda Non te la prende con Miguel Buttalo via No Ambo E' da che se deve essere buttato Ecco Coe Non mi sembra Ambo Ambo Ma tu il panino Con mollico o senza? Senza Come senza? Scusa Secondo me prendere il pane Allora Dipende Dipende da come te lo fai Ok Però secondo me Hai almeno Non so Facciamo 50 di qui in meno Se fai smollicare il pane Ma infatti A parte che Perché Ci sono tutte le sue dita Nel tuo pane Uno Il secondo Tu paghi Tu paghi A peso Per mangiare meno Esatto Perché tu paghi Il panino Che pesa anche la mollica Che in realtà è la parte pure più pesante Del panino E te la fai togliere Capito Quindi Non ha Ma se te lo fai tu il panino Questo non conta Ok se te lo fai tu Ma se te lo fai fare Come ti fai fare il panino Lo faccio fare Cazzo Mi frega Ecco Ragazzi Ragazzi Siete sparato un sacco di nome Nessuno ha indovinato ancora Nessuno ha indovinato E Allora Allora No Adesso la switchiamo La switchiamo La switchiamo Tranquil 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 brother Appena finisce switchiamo Raga basta Spammare i nomi Di tipe in chat No No Non ve lo dico tanto Vuol dire che qualcuno ha indovinato No 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 Ancora no E poi arriva uno che scrive Coe Cioè capisci Cioè Capisci che Non lo so C'è C'hanno qualche problema No vabbè Nessuno sa il mio nome Esatto Neanche il mio Sì vabbè Raga Quattro nomi Quattro nomi ci sono a Napoli Quattro nomi Veramente Quattro nomi Veramente Quattro forni Quattro nomi Quattro nomi ci sono Gennaro Gennaro Cino Gaetano Pasquale Allora sono cinque Scusami A me non sembra che L'abbiamo azzeccato Signore No non è così complicato È proprio il più classico Di Napoli Raga è il nome Più classico Napoletano Ciro Ciro è Il meme Diciamo Ok Ciro è lo Stereotipo Afrodite Ma che cazzo Ma che cazzo Ma secondo voi Si può chiamare Afrodite Ma dove cazzo Mi vede Nell'antica Grecia Che sei tu Io vengo Dall'antica Grecia Che sei tu Che sei Che sei tu Afrodite Rosamaria È fantastico Comunque Come non lo vedo Ancora il nome Giordano Quattro Che cazzo Giordano Quattro È più Come si Dove Oh Guarda Uno C'è stato Due G2 Saitama Saitama Vai sposta E non so È tipo saltato questo Ambo Ah Mannaggia Ma io volevo farlo io Me l'ha fatto lui Non ho la crunch Alfredo Il lungo Alfredo Perché è anche Il suffisso Perché è anche Il suffisso Il suffisso Ambo Secondo te Il tuo suffisso Quale dovrebbe essere L'indomabile Allora Ecco Ecco Allora Allora Ecco Ambo Ambo È l'indomabile Tu coi Tu coi Tu coi Lo stravagante Va bene Io faccio Emerald E l'eremita Tu sei Tu sei Il bizzarro Il bizzarro No 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 Io Io sono Turidu Scarface Sono io Scarface Scarface Ironman Ma dove sono i diamanti Ambo spuderman Ambo piderma Epidermi Ah ma io sono Sì Ambo 98 Ambo 98 Devo anche mettere questi Ecco qua Mamma mia No Se esplodisse uno di questo Sarebbe un problema Prima sono detonati Anche perché quando saltano Tipo con quella TNT Che non distrugge i blocchi Perdo Perdo il contenuto Eh certo Che si è andato E non potremmo tipo Coprirli di Almente Glass Aspè esiste tipo Una porta di Ossidiano Noi amori Quelle porte Matte Ossidiano Trapdoor Door Non esiste Ah Che cosa Di indistruttibile Tipo Trapdoor Così Non metti davanti E poi apri E se hai bisogno Pi rendi Se hai bisogno Perché Così Non esploda Stupido scemotto Scemotto Pagliacciotto Questa è buona Comunque Ah no È meglio Quella in diamante Ok Ma le mie potatoes Che fine hanno fatto Se l'ho messo Entri il sistema Aspetta Potato Olè Io vado a farmare Un po' di carote d'oro Quanto oro abbiamo Abbiamo No ragazzi Abbiamo Coel grosso E poi Ambo il breve Ambo il breve Che breve Ma questo oro Non smeltato Scusate ragazzi Cazzarola Cazzarola Allora Perché non è smeltato E no perché Dovremmo poi fare Tutta la cosa Di farlo smeltare Eccetera Cioè guarda anche Scusami Guarda questo copper Come faccio a prendere Tipo uno staccaccio Non Non prendere tutto No 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 Questo si perché era Sì esatto Questo C'è un problema Ambo Sì Questo si è dubbligato qua Dove quello Quale Questo E anche la clay Quindi la Orco Come faccio A prendere la roba Prendono quello Più vicino Come si caffna Il golden carrot Con il Però Ah con le Sì 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 Dobbiamo un attimo Esatto Eh questo qui che vuoto Verrà preso da qualcos'altro Giusto Eh infatti riempì Questo qui Per il resto Sta smistando tutto No C'è tipo questa La metist Che la metto qua Così già essere tappata Di duplicato Non c'è nient'altro Mi sa Ah eh sì Il bombial Il bombial Il duplicato Fatto Siamo quello lì Ok Ma che bello Ma Ambo Eh Che ci fa una cesta là sopra Non lo so Ambo il breve Ambo il breve Ambo il corto Il corto Il cociuto Sì sono Tra i tre stronti Sono quello più alto Ma che dici Tu sei il più alto Sì È probabile Scusami Ambo Quanto è che sei alto 1,80 Ah beh Quello anch'io Quindi su Attacca il testo Cazzo Giù giù Ok Quindi lo smistamento L'abbiamo fatto Che bello è che qui Guarda quanta roba abbiamo qua Oh cacchio Quindi dobbiamo mandare questa lì ora No? Eh dobbiamo Allora dobbiamo Fare Che sia che questa Vada nei troversi Quindi dobbiamo fare Un passaggio con i pipes Ma scusami Se mettiamo qui invece La roba che è tipo Eh Ah ok Eh Ha già compreso tutto Google Eh Sì Eh Sarebbe dato il sistema Sarmare tutto S Scusa raga Voi incerte Quanto siete alti? Vediamo Vediamo Muosce 4 metri Sì 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 No raga ma aspettate Aspetta guarda Aspetta un attimo Guardate Allora io controllo La media di altezza italiana Vediamo se Tutti i redditori Che la serie qua Sono in spiungone Che cosa? Sì È arrivato quello 104 chilometri Sì 69 69 69 Ok 1,69 T'avrei creduto Il signor banana dice 1,20 Ed è vero Ho visto È veramente 1,20 Il signor banana È 1,20 Per 1,20 Pelato È una palla da bullying Perfetto Però manco di così Meglio la qualità Che la quantità Vabbè non vuol dire nulla Qualità è l'alte Perché Perché Coe Nella botte più piccola C'è il vino buono Ah Hai capito? Capito Ma infatti Non è per dire Che se uno è più basso Vuol dire che fa cagare Era giusto per curiosità Io ho fatto un sacco di carote d'oro Se siete interessati Ma Come Io non faccio nulla Ah Con la torcia ti do fuoco Eh sì Torcia a fuoco Ma se dovete dire La dimensione della minchia Vabbè Sì una banana 1,20 1,20 Perché 1,20 A casa mia Se dici 1,20 Non sarà così Scusa Oh Io non capisco Veramente 40 anni Di rimanzidire Cosa della minchia Immagina 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 Tu qual è il tuo sfondo del computer Potresti mostrarcelo Infatti Vorrei poi mostrarcelo Il mio sfondo del computer Sì Chi ha che non va il mio sfondo del computer Eh? Eh? Cosa c'è che non va il mio sfondo del mio computer Scusami No perché stavi parlando di avere regole Infatti Ma tu giochi al League of Legends? Gioi al League of Legends? No Allora Che cazzo Oh raga Vedo Vedo Tipa colorata Eh Lo sfondo Lo sfondo Perché è wide Perché è uno dei pochi desktop C'è dei background Che sono Fatto per ultra wide C'è qualcosa altro di wide In quell'immagine Proprio Coe No Si dicono queste cose Io ho fatto le carotte d'oro 5 cuori in più Raga abbassate la vita a coe Anzi Kiccate il coe per favore Chi droppa 800 bit Io ho una vita e mezzo Voi no No Ma scusate L'altra volta C'aveva andato Una burca Ma quella è Harry Vabbè eccoci qua È Harry Harry È Harry È Harry from League of Legends Me and Flayner Avendo sbagliato il nome No Ragazzi Il nome è meglio per te Hai sbagliato il nome Bravo Harry from League of Legends Me and Flayner Nell'ultima faccia L'hanno baffata L'hanno baffata Comunque dice che le bianne Non gli piacciono E poi se le mette come sfondo Ecco Ma è 2D È 2D È 2D È 2D Mamma mia È 2D Queste donne 3D veramente Mamma mia Le donne 3D veramente Era un po' Oh Coe Atterriciamo È Mo È Mo È Mo È Mo È Mo È Mo È Lois 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 Non so io Scemo Motto C'è molto paia Sulle possibilità vinco sempre io Mi dispiace È un po' godo Con qua Ah si banda Arriva Ma Ma Chi ha parlato Perato mi ha fatto paura Ma no ma è entrato Ho sentito una Una quarta voce Che Sì è entrato il pelato Ho detto un po' godo Perché è pelato Secondo me deve Vabbè Devi prendersi con quelli con i capelli Guarda che bei capelli che c'è Guarda Guarda che capelli che abbiamo noi Guarda Non le avrai mai Cosa vuole questo Che cazzo fa? No non mi piaceva quel blocco Ah Ha avuto l'istinto del suo paese Grazie mille Diego Grazie mille Gordo anch'io tantissimo Mambo E Kira di Jojo Eh? E Kira Che è una roba di Death Note Di Jojo Di Jojo No magari c'è un Kira di Jojo Magari c'è un Kira in Jojo C'è un Kira in Jojo Tu che hai visto tutto Jojo Ma io non l'ho visto Jojo Manca un episodio Ah sì Yoshi, Kage e Kira Eh è vero simile Ah allora vedi Simile Ambo è Lady Yagami ma al contrario Che è un coglione È molto vecchia questa Non fa ridere Mi ti dispiace Ma no ma Ma che ma che ma che ma Ma che ma Perché al contrario si legge Ah no No Non ho capito Leggi Lady Yagami al contrario Leggi Lady Yagami al contrario Ho più visto io Aspetta 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 Sono Esplorata la cesta Ma porco I I Eme hai capito? Non capisce Scrivi io in prima Ah è giusto Non serve neanche Inizierà il cognome E finisci Inizierà il cognome Ho capito Ho capito Raga Grazie Grazie Chissà se l'ha fatto intenzionalmente Non penso che sia legit Un cognome Yagami Sì no È legit Cioè c'è Sti classi per i tre mesi Carissimo Allora Dobbiamo quindi portare noi Adesso Questo O nel sistema O nei drawer Eh io direi nei drawer a sto punto no? Dobbiamo fare più drawer Aspetta Quanti ringotti sono? Scrivi Va bene Sono cinque questi Ambo Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Non sai contà E' un povero Uno Due Tre Quattro Cinque Ma non sai contà Eh Aspetta La rendo più semplice Un dato da sei Grazie Grazie Ambo che non capivo Oh via 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 Ecco mi hanno spammato già 104 in chat Eccoci Ma perché ci sono dei drawer là sopra? Chi li ha mai visti? Sono ragazzi Al volo Ma non posso prenderlo se ho La seconda mano La seconda mano no Il totem of andine Marwards Ok Allora C'è l'ametista doppia Hanno ragione Mannaggia Allora Ah ma io farò una cosa C'è anche quella polverina di merda doppia No io Ti potrei proporre una roba Carina Amboz Come faccio mettere dentro? Dici Dici Allora Mi prendi delle Shaft Delle shaft Shaft E le belts Dele shaft E le belts Ok In realtà una belt Una belt soltanto Ah Non ne abbiamo Qualcosa non quadra stasera Ma ci piace così In che senso? Oggi impariamo a contare con Emerald Ecco Bravo Una belt Ok No raga veramente Cioè Lasciamo stare Non ti preoccupare Ognuno E intanto comunque Quello L'ho fatto preciso Allora Ambo Dei fatti Grazie tu E anche Tieni Due shaft Ma tutti sti materiali No no Due shaft Due 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 bro Ambo Ambo Non pensiamo a questi materiali Come invece Eh Allora So Coi so che sei un po' Ci stiamo lavorando adesso Non lanciarmi il tridente Oh le palle Ok non lanciare il tridente Per fare la dumbo No no Me ne sono lanciato sui test Timoni Ah Ok Qua è un momento Un attimo Delicato No Vai via di qua Sono Sul tappeto No Non essere un tappeto Esci 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 di qua Ok Scusa Allora Servono Due ciute Ambo Due ciute Due ciute Palle ciute Abbiamo Un ciute Passa il ciute Intanto Mi porti anche Eh Aspetta Sto ponderando Allagato tutto Ok Fatto quattro ciute Ok Mi porti anche un'altra Cosa di Come si chiama Di 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 Sì Dovrebbe Aspetta No gira in quel senso No ok Mi serve Il I Quale Gearbox Per favore Ok Ce la potete Facciare 5 Gearbox Sto Tutto nel sistema Sistemoso Ok Olè Vediamo se funzia Bonk Questo c'è un problema Ok Allora Da qui A qui Vediamo raga Qua c'è Tanta roba Eflè Eflè Allora domani Domani Eflè Ci spacchiamo No rega Ho spaccato qualcosa Non dovevo spaccare E' finita Sei rotto Ah non lo so io bro E vabbè Che fatto Ho fatto Ho fatto Ho fatto Fixa Cioè Efra io domani Streamerò Alle 16 Per venire al tuo Compleanno C'è Assurdo E invece Il capace Tu stai facendo Il compleanno Il venerdì Perché c'è Quel pelato di stormi Che non stream Ma Qua parla la lingua Dei fatti Io Vabbè Intanto inizio a mettere Dei voti Questo 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 E questo Ok Perfetto Ok Oh Funzia Tutto Ropto Perché Vabbè Non vuol dire nulla Efra che sei nato Veramente il 24 Ok Buon Natale Oh E devi esteggiare Per forza Il giorno del tuo compleanno Buon Natale Ok Allora Questo Fatto Ok Ambo Problema risolto Vedi Bene Cioè adesso Tutti Tutti gli oggetti Arrivano dentro La chest Questa E quindi Lì Arrivano I drawer Visto Magico Comunque Stiamo creando Un bel sistema E finalmente Niente che si Si rompe Mamma mia Non ci sta prendendo Neanche io Raga Ve lo giuro Non cuoce Come non cuoce Non cuoce Ah si Il gold Quello non Ancora Ah no Quello lì no Quello non Non si può fare Aspettare Però comunque Già Si sta smistando La roba Tant'è che Adesso Noi Eh però Ambo scusami Un attimo Questa mega chest Che facciamo Eh si Devi metterla Togli quella Togli quella Eh si Togli il coso Però Ah è Perché E allora aspetta Fatta 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 Tranquillo Si si può Da subito Tanto Ti do anche Qua ragione Ma quello E' un bot Peggio di tutti Noi Quindi Ce li attiviamo Noi O quello Non si schiota Da quella Camera Lo so Lo so Almeno andiamo a mangiare Al sushi Buono Dai Almeno quello Io ando al sushi Domani Si Buono Buono Ok Sta andando Qui sta facendo Ok Regà Cioè la farm Stramente sta funzionando Tutto Bene Cioè Mi sto meravigliando Che non abbiamo problemi Hai visto Una volta Eh Diego Fai un salto a Milano E andiamo al sushi Ti devo dire Anche se si potrebbe poi organizzare L'hot potata Con Con banana Troppi lati Esatto Facciamo una bella scenetta Tra pelati Anzi Tra due pelati E un Futuro membro Ecco Ok Quindi qua Oddio Cos'è sto coso che hai fatto Ambo Cosa È il compacting Letteralmente Ti trasforma Tutto quanto Visto che noi farmiamo Sia le pepite Che L'ingotto Sarebbe stato inutile Sì Fare due drawer Quindi mettiamo questo Che fa sia quello che quello Ma che li raccoglio Oppure se mi prendo tipo i blocchi Mi trasforma I lingotti In blocchi Sì Se tu prendi i blocchi Cioè Questi sono i blocchi che abbiamo Sia in pepite Che in lingotti Ah Ok E si può fare anche Di tutti quanti i materiali Posso prendere quello Posso prendere quello Sì puoi prendere sia quello Posso prendere quello È bellissimo Sì sì Infatti Visto che i lapis sono tanti Potremmo fare un po' di No era anche per quello Però No vabbè ma Ci sta Ci sta Però ecco scusami Ambo E qua c'è il ferro Quale ferro? Qua Lì c'è il ferro Perché arrivi in lingotti Eh ma deve andare per forza lì Eh Ma abbiamo già un K1 di ferro? Sì Inchia Dunque impossibile che vadano Perché vanno qui? Aiuto ho bisogno di un tips Mi è preso una super cotta per una ragazza Che è nel bus con me Sabato andiamo nella stessa discoteca Conci su Come fare il primo passo Eh Bro Allora Dipende dal Cosa vuoi fare Tango E così E fai il primo passo tu Volendo In mano destra In mano destra Ma alla fine segui Alla fine segui il flow Cioè e segui il flow E poi c'è la manina Fai Oh Capito Cioè Facile Cioè Guarda 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 Prendi esempio da questa Da questa foto Vedi? Vedi la manina? Punto tattico Un po' 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 Hai posato il tuo Vabbè No comunque No devi essere te stesso Eh bro Vale essere te stesso Cioè non è che devi Eh sennò non funziona Sennò non funziona Non ha senso Cioè sei te stesso Perché poi è capace Che ne so Gli piaci Perché fai fine di essere Non Cioè che non sei te stesso Cioè quindi C'è un Props Comunque sono la pepita Grazie per i sei mesi Non l'avevo visto Ma tu che dai questi consigli Perché ho visto Mob Psycho 100 Mob Psycho 100 No Ah wow Ma parla proprio di questo È incredibile Esatto Cioè di come Rimorchiare una tipa In discoteca Di come accettare se stessi Eh No ma quello Io da sempre so così Sì ma come te stesso Bravo bravo Sì 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 Ma infatti io Già se tipo un giorno Diventerò pelato Mi va benissimo Cazzo meno Wow Sì Che forte Che uomo forte Sì sì No Tipo non mi interessa Completamente Perché dime Cosa Questo Minchia però ragazzi Il tetto è veramente Un bordello Eh ma Alzo perché Mamma mia A parte che abbiamo fatto Un sacco di questi Mi prendo subito Il lutz Ma non ha senso Fare un tetto Perché tanto Ogni volta che fanno Una sub Lo spaccano Esatto Vabbè Allora Questo 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 La roba della crit Che in realtà Non so per quale motivo Non me l'ha Segnata prima Oggi ce l'avamo da prima Olè Ragazzi mi ha dato Una golden furnace Eccola Mi ha dato XP Jelly baby Mi sto mangiando un bambino Tieni anche tu Un bambino Ok Poi c'è questo Mi ha droppato La soul shard Mettila tipo là giù Ah l'ottimo Ah vabbè ti fa camminare così E basta No se vai al centro Va veloce No Perché a te va lento A me va veloce A me va veloce Ma Però Ah perché tu premi Per andare avanti Eh 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 no Dovrebbe farti andare avanti da solo Eh sì Si possono potenziare Possono essere Iper veloci E questo è interessante Anche per la futura farm Sì Notte Trivella Notte Pocanotte In tutto ciò Ragazzi siamo a 37 Siamo a un terzo Vedete Siamo A un terzo Per cambiare immagine Su twitch Azz 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 Comunque raga Forse domenica sera appunto Se tutto va bene C'è Roba matta col VR Let's go Eschere No Prismarine Let's go Eschere Eschere Allora Raga io direi che Comunque Allora abbiamo visto Ad oggi Dungeon E va benissimo Abbiamo fatto i drawer E va benissimo Ancora Direi che abbiamo fatto Comunque diverse cose Oggi comunque Nel complesso Giornata tranquilla Devo dire Siamo anche stati fortunati Che quelle TNT E quelle della palla di neve Non quelle esplodine Esatto E in più guardate un pochettino È la prima live che finiamo Dove Due statuette Rimangono vive Incredibile Ma mi ha morso appunto qualcosa Non lo so Mi sta facendo malissimo il polso La prossima live Dovevo fare quello Per fare smelting No? Smelting Sì Possiamo anche pensare A fare un po' di elettricità Finalmente Vabbè Questo è il carbone Vai 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 Ah sì sì Potremmo anche iniziare Ma scusa Coe perché le spacchi? Perché ho fortune E se È proprio da fare Da sto adesso lo stesso? A volte si bug E non mi dà niente Quando faccio da sto adesso Quindi mi riesco a spaccare Odì Sì fatelo poco forse legacy raga Tra 10 minuti Eh? Dobbiamo iniziare IMC prossima live Azz Eschere IMC Quindi dobbiamo fare i cosi I Aspetta come si chiamavano? Aspetta 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 In realtà no È molto lontano ancora Però ci proviamo Non servono Non i relay I cosi Vabbè MK questi Ecco I collector Sono un po' lontani Ma ci proviamo lo stesso No aspetta Ma non c'è un crafting Ah no serve l'energia L'energizing Sì sì è un po' lontano Ma Noi ci proveremo lo stesso Perché con IMC Possiamo rompere il pacchetto Raga c'è un MK15 Che è No Come si legge? Quello è l'extended exchange Che è una mod Che fa raggiungere IMC A una cosa proprio Sì ma scusami Ma È un'arma Ma cosa so 3500 No Miliardi Sì 3000 Miliardi Fa raggiungere IMC Un proprio Un livello superiore Non hai mai visto Nulla del genere Come ci arriva a fare Sti miliardi Scusami Le farm Le farm Le proprio Potenti Va bene Sono tre trilioni Che sono Mille miliardi Però Si sono mille miliardi Esatto I polli E I polli Sono qui Sono qui Qui ci sono i polli Sto qua i polli Abbiamo il carbone infinito Posevo fare L'elettricità Anche il carbone Anche Certo Aspetta Aspetta Eh si può fare appunto La La roba che ti dicevo io Con La create Volendo Io non so Di quello Sto E si può fare Quello Eschere Ragazzi Prossima Facciamo La La corrente Dai Poi tu dici Eschere Poi tutto a posto Sì sì Trosto Va bene Ragazzuoli Direi che per oggi Ci siamo Ambo Coe Vi saluto Bacino Abbraccino Allora Let's go Eschere Coe Out